iPhone 15 Pro o Pro Max? Qual è la mia scelta? Lo scoprirete presto, subito dopo la sigla. E si amici di Oltro Sguardo, come ho detto già all'inizio di questo video, oggi vi voglio parlare della mia scelta che ho fatto fra iPhone 15 Pro o Pro Max o quale acquisterò. Ma prima di dirvi questo, inizio col dirvi che questo video lo sto girando nella location invernale, quindi sicuramente ti dichiaro un video a questo, cose che ho cambiato, ma in più in là, in futuro, però in questo video lo sto facendo nella location che sarà quella che ci accompagnerà tutta l'invernata dei video, dei nuovi contenuti. Quindi non che è arrivato l'inverno, ma perché siccome c'è un po' di vento fuori, quindi volevo provare a cambiare un pochettino, quindi la sto facendo nella location invernale. Spero che vi piaccia perché saranno tanti i contenuti in arrivo in questa location, quindi non perdiamoci in chiacchiere, perché da dire c'è tanto qual è la mia scelta fra iPhone 15 Pro e Pro Max, quindi prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel mi piace e niente, sostenetemi perché è importante. Partiamo, perché io ho scelto di fare questo video, perché in tanti me lo state chiedendo, perché sapete che io mi piace comunque condividere con voi le mie scelte, alcune delle mie scelte, chiaramente riguardanti al canale, riguardanti appunto alla fotografia del video e alle mie scelte di prodotti. Qual è la mia scelta? Io ho scelto iPhone 15 Pro Max, vi spiegherò il perché, perché iPhone 15 Pro Max è quello che ha le funzioni più alte, più grosse, più importanti. Il teleobiettivo 5x, che a me i teleobiettivi mi sono sempre piaciuti, sono quello che userò sicuramente tanto, come ho usato tanto, quello presente in iPhone 13 Pro di 3x, che però non ha niente a che vedere su quello presente nel 15 Pro, perché è un teleobiettivo professionale, un teleobiettivo molto diverso a confronto a quello avuto sul 13 Pro. Quindi dimenticatevi proprio, o meglio, anche quello presente nel 14 Pro, dimenticatevi perché è un 5x pulito, il fatto è veramente professionale e che non perde la definizione, come in alcuni casi succedeva in quello del 13 Pro e il 14 Pro. Quindi, perché ho scelto? Non solo per questo motivo, per altri motivi che non ve li dirò tutti, ma la mia scelta è anche perché è lì che stanno le novità, è lì che c'è il grande, comunque, il Pro Max, il, diciamo, il protagonista quest'anno. Non so qual è quello che Apple riuscirà a vendere di più, sicuramente il Pro più piccolo sarà dedicato ai professionisti, ma che non hanno bisogno di un teleobiettivo, io necessito di un teleobiettivo in alcuni casi, quindi non posso farne a meno. Ok, ho scelto il Pro Max per il teleobiettivo principalmente, ma anche per altre cose, che appunto non vi sto a dire tutto, ma vi dico semplicemente che sapete bene se sto facendo questa scelta, è perché sono costretto da una parte, perché voi sapete benissimo a me gli iPhone sono sempre piaciuti Pro, non sono mai piaciuti grandi, io gli telefoni grandi non li ho mai amati tanto, però a malincuore, ma da una parte a malincuore, ma dall'altra sono contento, ho scelto il Pro Max, perché anche se è più grande, sicuramente in alcuni casi sarò scomodo, però è quello che merita di essere comprato, chiaramente non lo comprerò subito, è un video per dirvi la mia scelta, ma chiaramente lo comprerò in futuro, e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, però sapete, io amo condividere con voi, quindi ciao a tutti, al prossimo video, da Oltre, lo sguardo!